Sorpreso e sconcertato, si definisce così il Comitato di Quartiere e Parco della Vittoria Silvio Messina, dopo la messa in onda di un nostro servizio in cui l'Unione Comitati di Ostia proponeva il ripristino del mercato in via desiderato Pietri. I cittadini della zona di certo non sono stati consultati, afferma il presidente Gabriele Pisu. Negli anni infatti abbiamo fatto numerose richieste affinché le bancarelle fossero dislocate altrove. All'inizio si trattava di una sistemazione provvisoria che doveva durare sei mesi, ma il mercato è rimasto lì per 12 anni. Col tempo abbiamo dolorosamente constatato la mancanza di rispetto per il bene pubblico, perché i marciapiedi sono stati gravemente danneggiati dai grandi furgoni parcheggiati e sono stati rifatti a spese della collettività e poi le reti che delimitano le aree dell'ex punto verde qualità sono state divelte, perché alcuni commercianti si sono attaccati con le funi. E soprattutto, a causa dell'assenza dei servizi igienici, Piazza Leria veniva utilizzata come un bagno pubblico. È quindi ferma la nostra opposizione al ripristino del mercato, conclude Pisu, e ci riserviamo ogni forma di lotta per evitarlo. Siamo però aperti a valutare soluzioni alternative, pur che siano nel segno del decoro.